L'appartamento che aveva regolarmente acquistato con un mutuo sequestrato dalla guardia di finanza. Jin Jun Ji, immigrato cinese, ha dovuto andarsene dalla mattina alla sera insieme alla moglie e ai figli. Il tutto racconta per un disguido burocratico. I fatti risalgono all'epoca dello smantellamento dell'impero illegale di Luca Panchè che da parte delle Fiamme Gialle. Tra i documenti del boss un contratto di locazione per un appartamento nel famigerato complesso di via Piave 161, contrassegnato dal numero di interno 13. Così l'autorità giudiziaria ha disposto al sequestro ignorando che la numerazione all'interno del palazzo era appena stata rivista. L'appartamento 13 era diventato il 14 mentre il 14 di proprietà di Jin era diventato il 13. Inutile, narra ancora l'immigrato tentare di discutere quando si sono presentati alla nostra porta. Hanno fatto un sgombolo senza notifica. Non sapevamo c'era anche questo perché pensavo la casa mia nessuno può togliere questo. Ma in realtà hanno fatto questo. tutto perché loro hanno un potere di questo. Perché è un'antimafia. Hanno questo potere. Anche sbagliato. Io non c'entro niente con Luca Panchè. Comunque ripeto questo. Non c'entro niente con Luca Panchè. Da allora ho fatto di tutto per rientrare in possesso di quanto era mio. Continuo a raccontare Jin. Nonostante la lettera dell'amministratore condominiale che segnalava il disguido non sono riuscito a ottenere il dissequestro. Così dopo sei mesi ho inoltrato una semplice richiesta di rientro nell'appartamento. A novembre è stata accolta ma ora oltre alla latta del mutuo devo pagare 350 euro al mese per l'occupazione all'amministratore giudiziario. Adesso continuo di fare con l'avvocato. Andiamo avanti e vediamo quanto mi fanno dissequestro. Ma comunque al fine si è vinto. La casa mia sicuramente lo vingo. Però i soldi che ho speso, i sei mesi sequestrato fuori tra casa che mi hanno chiesto veramente i danni. mia famiglia, mia moglie, i due figli devono stare fuori dalla casa, dalla casa proprio.